Buonasera, benvenuti, benvenuti al nostro pubblico e ai relatori che sono qui con noi. Una sigla degna di una trasmissione televisiva, di un talk show. Complimenti. Possiamo fare un applauso? Alla sigla, certo, e a chi l'ha ideata e realizzata. Allora, oggi parliamo di un tema, affrontiamo un tema corposo, la scommessa del lavoro. Quando Francesco mi ha offerto di moderare questo dibattito, siamo arrivati all'area tematica, il piacere di lavorare, che sembra, come dire, un'antinomia, nel senso che come può il lavoro dare una tale soddisfazione da diventare un piacere? Può essere, per alcuni lo è sicuramente, ma per la stragrande maggioranza delle persone direi di no. Noi abbiamo qui, in questa bella galleria, come si può definire, in questa ala del palazzo che ci ospita, abbiamo la presenza di Chiara Pellegrini, e scusami Chiara Eranardinocchi, Silvia Pellegrini, perdonami, Giovanni Gentile, Giuseppe Gentile, Giuseppe Veniere, Francesco Errico, scusate, ma ho scambiato i nomi, mi perdonerete, non succederà più. Sì, con Giovanni Gentile siamo andati anche bene, potevamo andare anche, come dire, con Giovanni Gentile andavamo bene, perché insomma, diciamo che non ne perdeva, non ne veniva a mancare, nome e cognome importante. Allora, io mi presento, perché mi presento anch'io, mi chiamo Rossella Matarrese, sono stata fino a due anni fa, sono una giornalista e sono stata fino a due anni fa, ho lavorato nel servizio radio televisivo, cioè nella RAI, pubblica, e quindi in RAI, e conosco anche per vicende sindacali, che mi hanno legato a, diciamo, a ruoli regionali e nazionali, che cos'è il precariato. L'ho misurato sulla mia pelle, continuo a misurarlo anche su quella dei colleghi, sapete che, insomma, l'ambiente dell'informazione è un ambiente che ha un peso, in cui ha un peso notevole la precarietà. L'incertezza del lavoro, l'incertezza di cercare un lavoro. Oggi sono consigliera dell'ordine dei giornalisti della Puglia e mi occupo di formazione, quindi niente, diciamo, di meglio mi poteva capitare che non incontrare voi è incontrare il volume La Scommessa del Lavoro che è edito, ricordiamo, dalla Fondazione di Bagno che presentiamo in questa cornice della ventesima edizione di Lectori in Fabola. Quindi andiamo, diciamo, procediamo con il tema. Io ho la riflessione da cui parto, da cui alla fine di queste, non lo dico per, diciamo, per piageria, ma perché ci credo e sono assolutamente convinta che questo volume, interessantissimo, mi ha portato a delle riflessioni. Una di queste riflessioni è il lavoro continua ad essere una modalità anche quando lo abbandoniamo fisicamente. Io continuo ad essere, diciamo, una giornalista, continuo a leggere giornali quotidiani ogni giorno, a informarmi, non potrei essere diversamente, non potrei fare diversamente. Quindi tutto quello che io mi sono creata mi porto dietro e continuerò a portarmelo dietro. Quindi questo significa, e può significare, che il lavoro ha una condizione di, diciamo, di una condizione perenne alla ricerca di qualcosa che sia una realizzazione. E oggi vediamo che cosa sta succedendo. Allora, che cosa succede oggi nel mondo del lavoro? Lo chiedo a Giuseppe, a Giuseppe Vignard, perché lui ha detto, e glielo ho anticipato prima, coautore, coautore, senz'altro, anticipato anche prima, lui mi ha detto Francesco, Giuseppe Vignard vuole che non si parli di lui. No, no. Che non si parli di lui. Cioè che non si parla della sua condizione specifica, ma, diciamo, di temi più allargati. In realtà, in realtà, si parlasse del suo intervento, ma del libro in generale. Ma del libro in generale. Ma questo lo faremo sicuramente. Anche per quanto riguarda Silvia. Però, però, una persona che inizia il suo capitolo scrivendo, io sono un precario, però non mi sento un precario, è la vita che è precaria. Quindi il lavoro non dovrebbe rendere la vita più precaria, ma renderla meno precaria. È un bel concetto, ce lo spiega? Allora, parliamo di lei. Ha capito? Ma, allora, intanto, noi stiamo attraversando un momento storico, probabilmente lo sono stati così tanti altri momenti, forse ogni volta che ci si trova questi, stiamo attraversando un momento particolare. Però siamo di fronte a un momento di grandissima trasformazione. E una trasformazione anche molto rapida che probabilmente noi stessi ancora non siamo in grado di cogliere fino in fondo. Penso alla trasformazione di quando nel 2008-2009 che c'era poi c'era la crisi forte ma o forse due anni prima sono usciti gli smartphone. Noi non abbiamo capito cosa stava succedendo, però poi a un certo punto ci siamo accorti che era cambiato tutto rispetto al nostro modo di comunicare. Oggi il lavoro un po' il covid che ci ha segnato nelle relazioni. Ma credo soprattutto una serie di altri fattori anche dovuti a come comunichiamo sta assumendo un valore diverso. Per noi o forse per quelli della mia generazione io sono del 68 un 68 di nascita diciamo forse un po' c'avevo come dire qualcosa che mi porto dentro di quell'epoca. in qualche modo il lavoro era un modo per comunque anche costruire un'identificazione sociale di creare relazioni sicuramente è poi la cosa principale che ci aiuta a sostenerci a mantenerci in Italia devo dire in un sistema dove lo stato sociale comunque non è mai stato messo in discussione con un sistema produttivo e dei servizi relativamente stabili sì c'erano gli shock petroliferi però tutto sommato eravamo poi provvisamente si è accelerato tutto è cambiato tutto continuano a cambiare le modalità con cui noi lavoriamo per cui costantemente le competenze vengono messe in discussione cambiano le organizzazioni c'è un tema di cui se volete possiamo parlare che è il tema demografico che è un tema che teoricamente lo dovevamo prevedere perché non è che è una cosa che scopriamo oggi perché la demografia ha di bello che insomma è una scienza che studia degli orizzonti e degli scenari molto lunghi e però noi fatti noi ci troviamo che oggi probabilmente le persone dovranno lavorare di più i giovani sono sempre meno e i giovani mi piace dire questa cosa perché io mi sono spesso trovato un po' di anni fa a dire noi giovani e adesso sentendomi in molti contesti direi perché noi giovani contro di voi e caspita questo mi mette sempre in crisi e probabilmente hanno dei punti di riferimento un approccio all'identità sociale che è alla loro identità che è completamente diverso e secondo me chiudo questa cosa nel libro nel libro io purtroppo ho letto solo i quattro interventi dei quattro come dire ho fatto no ma perché quelli avevo il libro fisicamente l'ho avuto solo oggi ma ho avuto il piacere di leggere oltre che il piacere di lavorare in anticipo i pezzi di Francesco Enrico di Giuseppe Gentile di Maurizio Del Conte e di Mirella Giannini per cui anche tutti insomma persone di un certo dove il tema ricorrente è quello proprio del come ciascuno di noi si approccia al lavoro cos'è che lo che lo rende un lavoro attrattivo cos'è che lo posso scegliere il lavoro perché sempre di più il più giovane vuole sente il bisogno di dire ma io non necessariamente mi realizzerò nel lavoro c'è altro il lavoro è quasi una cosa obbligata che io devo fare e forse un po' io questa cosa l'ho letta anche nel questa figura che viene evocata di Bartleby lo scrivano che è un bellissimo racconto romanzo breve o racconto lungo di Melville che io non conoscevo che ho avuto l'opportunità di conoscere di questa no anche desiderio di ribellione di cose di mettere in discussione quelli che erano un po' i dogmi anche anche quelli della collettività e quindi oggi dobbiamo probabilmente in un mercato del lavoro che cambia in un mercato del lavoro complesso dove la tecnologia o le nuove modalità di lavorare stanno capire come riappassioniamo o come ci riappassioniamo al lavoro avendo in mente e chiudo che probabilmente e viene detto in uno dei forse nell'introduzione che probabilmente il lavoro è proprio la modalità o può e sarebbe bello che fosse la modalità con cui noi invece agiamo nella società civile quindi una cosa che è individuale e sempre di più sta diventando individuale anche per che il lavoro intellettuale ha questo tipo di caratteristica ma sempre di più potrebbe e dovrebbe recuperare quella dimensione sociale e di capacità anche di ribellarsi anche di dire no proprio attraverso il lavoro per cui è un call to action che dicono anche ma una chiamata io volevo prendo questo microfono perché è più a portata di mano allora ho dimenticato una piccola nota biografica se no poi sembra che parlo volevo solo parlare della mia biografia insomma che poco interessa ma quanto quella di Giuseppe Begner che è amministratore delegato di Umana S.P.A presidente della Holding a cui fa capo Umana è consigliere di diverse società del medesimo gruppo che si occupa di risorse umane vabbè era una sì prego da quest'anno ordino a quest'anno Umana il sponsor del festival ecco ancora una notizia perché ci siamo l'anno scorso sono stato invitato ad un sono un po' appassionato e innamorato del posto della fondazione e di questo lavoro insomma lo dico tanto senza piacere perché per noi la fondazione di Vagno diciamo per i pugliesi ma anche insomma fuori dai nostri confini territoriali e regionali insomma è un richiamo molto forte culturale ma anche di grande come dire di grande conoscenza qualità della conoscenza da qualità alla conoscenza che non è poco perché ci sono tante cose in giro per carità tutte buone però arrivare quasi all'ottimo non è da tutti allora Silvia Perlegrini andiamo per alternanza di genere quindi allora dal 2011 piccola nota anche per te posso darti del Tussi biografica quindi direttrice del ah dal 2021 direttrice del dipartimento delle politiche del lavoro istruzione e formazione della regione Puglia ma dal 2020 e questo è giusto mi pare di ok viene nominata dal ministero dei beni culturali tra gli otto esponenti di spicco del mondo della cultura che fanno parte del consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici allora Silvia Pellegrini tematizza che cos'è un buon lavoro allora che cos'è un buon lavoro beh un buon lavoro è una cosa che spieghiamo tutti però diciamo quello che anche così come Giuseppe Veniere ha descritto questo scenario sta cambiando e quindi la qualità del lavoro è sicuramente un'esigenza quasi primaria rispetto forse anche a livelli salariali non dico alle forme di tutela perché quelle sono quelle che insomma vengono ricercate di più però anche alla stabilità stessa del lavoro e quello che interessa oggi è che il lavoro gratifichi e che il lavoro renda felici e che il lavoro ci renda persone diverse da quelle che gli altri teniamo ci vogliono far diventare ecco la cosa che mi ha colpito e anche questa del tuo intervento è che la pubblica amministrazione anche in questo ha un ruolo direi fondamentale ma perché non riesce a capirlo? difficile rispondere a questa domanda anche perché parto da un presupposto che forse farà sorridere ho apprezzato tantissimo l'ho detto a Giuseppe Venier che ho conosciuto oggi fisicamente ma mi ero documentata prima di venire qui oggi e ringrazio Francesco Enrico per l'invito e ormai sono anni che sono ospite di questa splendida community library anche perché questa community library mi piace ricordarlo è frutto del lavoro congiunto che è stato fatto qui vedo il collega ex collega regionale rotunno ma amministratore comunale è stato fatto con la sensibilità dell'amministrazione di Conversano e con la regione Puglia un investimento da 120 milioni di euro che ha distribuito e diffuso per tutta la Puglia le biblioteche di comunità come presidi di sapere di inclusione di integrazione non luoghi dove si deve far silenzio è stata una misura che ha consentito e consente ancora oggi perché continuano ad inaugurarle di valorizzare e riempire di contenuti anche beni storici artistici come questi che diventano appunto veramente una sentinella di cultura e socialità perché dico questo quindi perché anche il contesto nel quale noi ci inseriamo è fondamentale dicevo di Giuseppe Veniere ho apprezzato il suo intervento in questo libro che oggi presentiamo la scommessa del lavoro perché ha parlato della precarietà che come il lavoro è una condizione sociale ebbene vi farà sorridere sono precari anch'io quindi tu scrivevi allora a marzo queste note e io mi sento precarissima chiariamo anche lui poi alla fine evidenzia dice vi ho fatto intendere che sono un povero lavoratore non un rider perché sono amministratore delegato tra le altre di una società che fa talent scouting di risorse umane non so se è un'agenzia per il lavoro praticamente sì e quindi non mi trovo in una condizione di disagio perché la retribuzione che percepisco risponde alle regole costituzionali perché mi consente comunque di reinvestire in tutela e informazione continua che è fondamentale anch'io sono nella stessa situazione nel senso che sono dirigente della regione Puglia dal 2009 tuttavia legata ad incarichi che variano nel 2021 l'amministrazione dopo un lungo percorso che nasce dai beni culturali perché sono stata per oltre 14 anni dirigente dei beni culturali e quindi ho avuto la fortuna di pensare anche a questo intervento oltre alla tutela dei beni ecclesiastici la valorizzazione degli archivi la street art abbiamo fatto tante cose con i fondi europei diciamo intermediati dalla regione Puglia nel 2021 sono stata insignita di questo incarico dopo essere stata membro del consiglio superiore dei beni culturali ho visto qui in giro il professor Volpe del quale ho preso immeritatamente l'incarico perché quando il professor Volpe è diventato consigliere del ministro Franceschini la Puglia mi ha dato questo incarico ebbene da direttore del dipartimento l'incarico dura tre anni in realtà da contratto dura tutta la legislatura però il governo regionale ha deciso di metterlo a bando a maggio ebbene qualcuno l'avrà letto sui giornali da maggio andiamo avanti di proroga in proroga per carità ne sono felice quindi ho firmato l'ottavo contratto di proroga in attesa di capire dal bando chi sarà il nuovo direttore non so io mi sono ricandidata ovviamente il governo deciderà perché questo è un incarico da SpolSystem e quindi ho pensato che la mia presenza oggi fosse calzante rispetto al tuo intervento perché come vedete in tutti i ruoli anche in un ruolo comunque che mi dà sicurezza e certezza perché resto un dirigente regionale però sì sono giuridicamente precaria e questo comunque crea una situazione di incertezza e incide molto di più dell'incertezza la stessa che denotava Venier perché c'è un problema di incidenza nelle attività che si portano avanti in che senso io sono un direttore di dipartimento ne ho costituito con me è nato il dipartimento del lavoro un dipartimento dedicato alle tre politiche che sono focali e che devono procedere parallele lavoro formazione e istruzione unito all'università quindi per programmare le attività non si può essere apprese all'incertezza di un periodo che non sia almeno un triennio o un quinquennio e questo credo che lo dicesse anche il collega Gentile nel suo intervento cioè la programmazione implica comunque un orizzonte temporale medio-lungo che deve consentirti anche di immaginare un percorso e valutarlo anche in itinere per verificare gli impatti e poi eventualmente correggere il tiro perché tu devi avere la possibilità temporale di verificare il tempo di realizzazione delle misure esattamente non solo ma c'è anche un tema i tempi della burocrazia in una pubblica amministrazione inevitabilmente per quanto possa fare sforzo di semplificazione e di accelerazione l'abbiamo fatto poi se avrò la possibilità vi darò qualche piccolo spunto concreto di misure che abbiamo provato a mettere sul campo ha un orizzonte temporale che sono i tempi dell'amministrazione per quanto ci sono amministratori illuminati sia locali che dipendenti regionali che poi ci credono perché hanno la passione di lavorare quindi sono legati al loro lavoro nonostante tutto è ovvio che il tempo diventa un fattore determinante e quindi da qui deriva quella precarietà che è anche la frustrazione di avviare percorsi che poi non vedi realizzati anche quando non è solo l'incertezza o la precarietà dello stipendio e dall'esame che ho potuto fare il mio è un piccolo contributo ringrazio ancora Enrico per avermi ospitato in un libro che ospita Del Conte che è stato presidente dell'AMPAL e un giurista o ha ospitato nel piacere di lavorare Voza ospita Giannini ospita altri Giannini e Gentile però mi ha dato la possibilità di indacare questo criterio questo indice che ha usato l'istituto l'ISTAT per IBES che mira proprio ad indagare il senso degli interessi al lavoro l'inserimento dell'individuo nell'organizzazione nella governance dell'impresa nella quale si inserisce e l'elemento che è emerso non è tanto a parte che sono emerse le polarizzazioni e le disparità perché è ovvio che più è qualificato il tuo lavoro più hai certezza del prosieguo della tua attività sia sei sicuro che avrai possibilità di essere rinnovato ciò che colpisce e che rende il lavoratore non contento è la possibilità di carriera e la flessibilità nel cambiare il lavoro cioè la circostanza che uscito da un ambito lavorativo ci sia l'incognita di poter trovare in tempo un'altra attività perché spesso le competenze che si possiedono non sono spendibili ed è questo il grande problema che noi stiamo affrontando quando si dice oggi la parola magica perché noi in Italia andiamo per mantra il problema del mercato del lavoro che ancora tutto da costruire non è detto che esista su questo ne abbiamo già discusso e non è detto che mai consenta di incontrare domande offerta di lavoro perché tanto non si incontrano mai è la formazione la formazione deve essere di qualità non è rispondente ai tempi perché altrimenti non vi spiegate perché ci sono tanti lavoratori che non trovano lavoro ma tanti datori di lavoro che fanno domanda di lavoro e non trovano lavoratori che poi li trovano e non sono adeguati le vacanze se andate a vedere su tutti i portali ci sono milioni di domande di lavoro in evase però ci sono tanti lavoratori precari quindi il problema è la formazione e io mi permetto di rispondere innanzitutto il problema non è la formazione se dobbiamo dobbiamo dirla tutta è l'istruzione forse il problema non sono solo le competenze ma le conoscenze cioè è tutto il sistema educativo che non è adeguato e non procede di pari passo perché noi e ne darò dimostrazione possiamo anche puntare su corsi di formazione che siano sempre più rispondenti a competenze brevi e spendibili e che rispondano anche se è complicato alle esigenze di un mercato del lavoro dinamico e complesso che si evolve continuamente ritorniamo ai tempi della burocrazia io immagino un profilo aggiorno l'Atlante o il catalogo che è vetusto immagino ciò che l'imprenditore vuole l'imprenditore è già andato via perché nel frattempo ha già cambiato indirizzo perché si è dovuto adeguare alle regole del mercato e quel profilo che mi aveva richiesto e che io comunque ho dovuto immaginare strutturare mettere a bando in un sistema di formazione in una competenza esclusiva che in Puglia conta lo ripeto sempre 330 entri accreditati su 440 sedi un comparto produttivo finché l'ho messo a terra il profilo e ho i primi diciamo formati l'imprenditore che li voleva non c'è più e quindi dobbiamo immaginare e mi fermo perché se no non do la possibilità agli altri di parlare ma spero in un secondo turno il problema è immaginare un sistema educativo che vada in parallelo col sistema di formazione e che parte per assurdo dall'orientamento dal sistema di accompagnamento delle famiglie con i bambini e che ha visto trasformare quella che si chiama conciliazione io odio questo termine come la querzè dovremmo parlare di equilibrio tra vita e lavoro non conciliazione i buoni di conciliazione non esistono più perché sono diventati voucher di istruzione lo 0-3 rientra nel sistema universale dell'istruzione e quindi la partecipazione dei bambini alle attività dei nidi e delle scuole dell'infanzia sono attività di istruzione necessarie che rappresentano il primo obbligo del pubblico e quindi concludo siamo partiti da cosa deve fare il pubblico e la pubblica amministrazione per garantire un buon lavoro per arrivare a dare una risposta perché questo è un tema di politica pubblica e quindi è normale che la pubblica amministrazione che ha come mission la soddisfazione il soddisfacimento dell'interesse dei cittadini perché esistiamo per questo non siamo autoreferenziali se vogliamo fare il nostro lavoro dobbiamo immaginare un sistema che per approdare al lavoro deve partire dal sostegno delle famiglie dall'attenzione all'equilibrio vita-lavoro da una maggiore occupazione femminile che significa riconoscimento dell'importanza del lavoro delle donne che oggi possono fare la differenza perché rientrano in quel target di occupabili che si riduce sempre di più sostenere quindi la partecipazione già dalla giovanità dei bimbi nei contesti di comunità perché imparano a vivere insieme e il vivere civile costruire un'istruzione che sia rispondente ai bisogni poi del mercato del lavoro in modo che la formazione sia l'ultimo tassello e che sia veramente il ponte tra un buon lavoro e un lavoro di qualità che prevede quindi che la domanda sia corrispondente all'offerta è una cosa di una complicazione unica ma con una visione politica e strategica che immagina un percorso che procede parallelo integrato probabilmente qualche risultato si avrà e quindi misure come il 4 più 2 dell'istruzione che parte quest'anno abbiamo previsto questa nuova in Puglia in Italia sono 172 gli istituti che partivano quest'anno con il sistema appunto integrato dell'istruzione tecnologica superiore l'istruzione professionalizzante l'idea del potenziamento delle ITS Academy che in Puglia sono 10 che sosteniamo fortemente che hanno un livello di placement enorme il sostegno di corsi di formazione anche in azienda stiamo sostenendo le comunità formative aziendali che sono un'altra iniziativa di Olivettiana Memoria che mira a sostenere in azienda delle divisioni che creano questa rete che potenzia le imprese coesive forse riusciremo poi a garantire anche un buon lavoro grazie 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 a Silvia Pellegrini Giuseppe Gentile Giuseppe Gentile professore di diritto del lavoro all'Università Federico II di Napoli gius lavorista esperto di politiche del lavoro politiche sindacali avvocato consulente in gestione del personale relazioni industriali ha pubblicato leggo e quindi mi fa piacere anche sottolinearlo più di 70 tra articoli saggi opere scientifiche sulla disciplina del diritto del lavoro dello stato sociale delle relazioni industriali ed è componente del comitato scientifico come ricordava Francesco del centro studi il piacere di lavorare allora Giuseppe Gentile da un lavoro all'altro è un tempo pensare di lasciare un lavoro stabile un posto fisso era quasi inimmaginabile c'era anche una condizione familiare sociale che ti costringeva a non fare queste scelte era una scelta difficile e se riuscivi a farla la pagavi sulla tua pelle oggi le cose stanno cambiando lei parte dal PNRR e dalle possibilità che si aprono attraverso questa capacità fortissima di mettere miliardi in un sistema come il nostro però anche garantendo la transazione digitale la transazione ecologica e anche una transazione occupazionale e quindi una capacità di turnover di captare le nuove generazioni dando anche però la possibilità a chi è stanco di portare il peso di un lavoro che non piace di accompagnare diciamo l'uscita un'uscita graduale e piacevole verso la quiescenza come si usa a dire ma questo però sottolinea anche lei ha bisogno di una forte capacità di relazionarsi con i corpi intermedi oggi i corpi intermedi sembrano che facciano un po' acqua o almeno li si accusa di non aver fatto sto parlando dei sindacati di non aver fatto il loro dovere fino in fondo di aver difeso un corporativismo che oggi diciamo potrebbe sembrare assolutamente desueto antico vecchio sì tante cose buonasera a tutti piccola premessa io ho smesso di essere precario da un anno più o meno con la con la chiamata in cattedra in Federico II dove insegno dove sono felice di insegnare sì io nel stiamo confinati nel mio intervento nel mio articolo affronto più questioni ho affrontato quel trend che credo abbiate un po' tutti letto in questi anni del fenomeno delle grandi dimissioni delle dimissioni di massa che si è registrato a valle del covid dell'esperienza del covid che è un po' assegnato anche i comportamenti sociali delle persone e che si aggancia ad un fenomeno non dissimile nelle scelte nelle riflessioni dei diretti interessati anche se è diverso nella esplicitazione fattuale che è quello della fuga dai concorsi pubblici perché contestualmente parallelamente a questo fenomeno di gente che si è dimessa la sera per la mattina senza un'alternativa senza accedere ad un nuovo posto di lavoro abbiamo anche registrato la fuga dai concorsi pubblici soprattutto nel centro sud dove invece c'è sempre stato una come dire una quasi una corsa verso il concorso non una fuga dal concorso spiego do delle spiegazioni anche tecniche sulle quali non voglio annoiarvi molti di questi concorsi andando al di là dei titoloni dei giornali molti di questi concorsi erano per trafile diciamo anche per quanto semplificati i concorsi oggi rispetto al passato ma comunque destinati a dei profili tecnici quindi proiettati verso non dei giovani laureati e basta ma sempre meno giovani ma dotati già di un background culturale e tecnico comunque finalizzati a dei contratti a tempo determinato quindi con una come dire con una con una prospettiva temporale limitata di tre anni tant'è che poi il legislatore non vi annoio su questo punto nel corso della messa a terra del PNRR ci ripensa e introduce una norma salva precari che diciamo di fatto ve lo dico già il nuovo esercito di precari che nel frattempo si è formato nella pubblica amministrazione per effetto di questi concorsi per contratti triennali saranno tutti stabilizzati perché c'è già una norma che lo prevede quindi bastava dirlo a monte sono contratti a tempo indeterminato magari in quel modo avresti forse attirato l'attenzione di quelli realmente interessati e non diciamo di quelli che invece hanno avuto nel frattempo poche alternative affronto questi temi io diciamo rimandando al libro per chi ne avrà voglia non credo che ci sia una riluttanza certo oggi il lavoro è meno identitario lo avete detto un po' tutti cioè ci si identifica sempre meno nel lavoro ma perché è già un approccio da parte dei giovanissimi io insegno in un dipartimento di economia sebbene insegno una materia giuridica e il mio è un esame dell'ultimo anno quindi arrivano già un po' più con le idee chiare spero che abbiano le idee chiare su ciò che vorranno fare e non hanno le idee chiare non hanno le idee chiare non hanno le idee chiare ma non la vivono come una condizione diciamo di incertezza perché credo che siano già pronti ad una mutevolezza del mercato del lavoro è un po' di tutto il sistema economico che insomma sarà pronto ad accoglierli non nasceranno come dire tecnici informatici per morire tecnici informatici ma non solo perché è cambiato il contesto nel quale lavorano ma perché forse avranno voglia proprio di osare di cambiare ed è una condizione che invece non riguardava diciamo i giovani già 15 anni fa o 10 anni fa quindi c'è una c'è una diversa approccio comportamentale da parte dei giovani come prova a scrivere ma c'è anche proprio un contesto che nel frattempo sta mutando velocemente come diceva Giuseppe prima noi viviamo adesso nella cosiddetta rivoluzione tecnologica 4.0 come appunto quelli bravi dicono che non è soltanto la digitalizzazione l'ingresso della tecnologia sofisticata nel mercato del lavoro o più in generale nella vita di tutti noi ma è qualcosa di ancora più ignoto l'intelligenza artificiale è un qualcosa che comincia anche a preoccupare probabilmente sicuramente anzi travolgerà molti segmenti produttivi probabilmente distruggerà molti posti di lavoro e ne creerà degli altri il punto è chiedersi come provo a dire in quelle pagine del libro il punto è chiedersi la domanda è la tecnologia che utilizzeremo in futuro chiamiamola per far prima intelligenza artificiale sarà in grado di ricreare quei posti di lavoro che saranno spazzati via tutti riguarderanno gli stessi territori nei quali quei posti di lavoro salteranno gli stessi segmenti produttivi o invece altri riguarderanno le stesse persone fisiche in carne e ossa o forse no ma queste sono domande che andavano poste non ora ma almeno cinque anni fa forse ancora di più perché in realtà questo ti serve a governare dei processi a non assubirli e perché occorre appunto investire nella governance dei processi tecnologici dei processi produttivi e dunque anche dei processi occupazionali quello che lei appunto citando alcuni passaggi diceva prima la transizione il termine transizione è un termine che nel PNRR viene ripetuto in più punti la transizione digitale la transizione ecologica il green la transizione produttiva sono tutti processi di governance che dovrebbero proiettarci da un punto di partenza che è quello attuale ad un futuro che dovrebbe essere almeno come dire ben prefigurato dal legislatore o dal governo ecco da chi ci governa e tutti questi fenomeni di transizione ruotano almeno per chi ha la passione e il diritto del lavoro come me ruotano attorno ad un altro tipo di transizione che è quella occupazionale se tu rivoluzioni il green rivoluzioni la tecnologia rivoluzioni i settori produttivi perché i sistemi produttivi occidentali si stanno attrezzando già andando oltre la globalizzazione che abbiamo conosciuto puntando ad una regionalizzazione delle economie tutto questo ruota e diciamo impatta anche su processi di transizione occupazionale occorre capire tutti i disoccupati che diciamo avremo nei prossimi 15 anni come saremo in grado di recuperarli e dove in che modo certamente sulla formazione un capitolo centrale non come quella che abbiamo conosciuto e che stiamo adoperando ancora oggi sia per numeri che sono risibili sia per contenuti formativi se non cominciamo a chiedere alle imprese che quali figure di quali competenze diciamo professionali hanno bisogno in modo da anche rivedere e riaggiornare i repertori professionali regionali che sono anch'essi risibili tu come fai insisti ancora con dei modelli di formazione senza poi arrivando a quei fenomeni di che tu evocavi prima di skill shortage cioè hai delle sacche di disoccupazione in alcune aree geografiche e produttive e invece delle domande in evase di occupazione altrove questo impatta su e torno alla doma al punto di partenza impatta anche in tutto questo poi impatta anche il comportamento dei giovani i quali come diceva prima Giuseppe danno un valore al lavoro oggi che non è identitario è un pezzo della loro vita ma probabilmente non è nemmeno il pezzo più importante della loro vita oggi magari lo sarà quando avranno una famiglia vorrei se la avranno anche lì o se metteranno nella mutevolezza della loro resistenza anche la famiglia però di certo non è un elemento centrale e questa roba qui cioè che possiamo tradurre in quella riluttanza a cui facevo riferimento prima ma che è soltanto sintomatica non sono riluttanti nel loro essere però ha mandato in cortocircuito il sistema delle imprese che per la prima volta si sono sentiti traditi dai lavoratori se ne sono andati dalla sera per la mattina lasciando alcune realtà aziendali prive delle risorse forse anche delle migliori competenze e questo è un bene perché un po' riequilibria certe certi squilibri che ci sono sempre stati fino ad adesso che ancora ci sono in alcune aree produttive uno squilibrio di poteri tra le parti del rapporto intendo dire però poi crea quel fenomeno di individualizzazione del mercato del lavoro che evocavi tu prima cioè io decido per me negozio per me non ho bisogno di nessuno che negozi per me che butta fuori dal sistema delle relazioni industriali i colpi intermedi e in realtà indebolisce nel lungo termine i lavoratori questo il padrone di casa Francesco Francesco Enrico è qui è con noi Francesco Enrico lo ricordiamo è direttore dell'area il piacere di lavorare dell'area tematica il piacere di lavorare all'interno della fondazione della fondazione di Bagno è stato allievo di Franco Cazzano di Mirella Giannini che qui come abbiamo ricordato non è potuta essere qui con noi oggi di Gaetano Veneto Mirella che con Giuseppe Gentile e con Giuseppe Maurizio del Conte fa parte di questo gruppo di lavoro e gestisce questo gruppo di lavoro è stato faticoso come dire tirare fuori queste idee anzitutto diciamo rappresentiamo il centro-sud io e Giuseppe sono assenti il professor Maurizio del Conte come stavamo dicendo è stato purtroppo colpito dal matrimonio del del cugino e quindi ha dovuto soprassedere diciamo così io avevo anche detto ma poi farli sposare a conversare Silvia ci mettevamo una buona parola col parroco se si sposa non è stato possibile vabbè Mirella la professoressa Mirella Giannini è fuori Italia credo per motivi professionali quindi era giusto anche completare la squadra invece il professor Gentile per fortuna non è stato colpito da nessun matrimonio è arrivato un po' trafelato da quel di Napoli poi prima di entrare a parte ringraziare Giuseppe e Silvia ci sono anche altri interventi nel volume alcune persone come Roberto Rottunno ho visto anche Marco Panara sono qui e volevo ringraziare che li avrei citati più avanti perché sono assolutamente fattori ok allora niente ti volevo ti stavo chiedendo quanto è difficile è stato insomma mettere insieme queste teste come nel senso che questi lavori in genere insomma richiedono del tempo richiedono anche delle riflessioni credo anche delle discussioni e quindi questo poi farò come dire a seguire diciamo l'identica domanda di quello che siamo riusciti che sono riusciti a tirare fuori gli altri gli altri coautori però da te volevo sapere quanto ci hai messo quanto ci hai no ci pensavano molto non è stato non è stato molto difficile per la qualità delle persone Giuseppe già ne parlai di fondare un centro studi ne parlai con Giuseppe mi disse subito vabbè lui dice sì un poco facilmente però poi ha mantenuto ha mantenuto gli impegni semmai poi abbiamo allargato le nostre attività e questa è la nostra prima pubblicazione allora Rossella sai cosa è stato ed in parte è più difficile divulgare la mia e la nostra idea di lavoro perché le politiche del lavoro sono quelli su cui ci si divide in maniera ideologica e questo non va bene si pensa che possano essere dinamiche governate con slogan non è così oppure come si usa in Italia Silvia tu che sei un'amministratrice pubblica facciamo una legge facciamo una legge sai l'efficacia della legge in tema di politica del lavoro la legge sui diritti fondamentali importanti che siano regolati per legge ma il resto arranca diciamo così io infatti nel primo rigo della mia monografia cito una frase di Herman Melville apro così la mia monografia con questa frase di Herman Melville pare ci sia una ragione in tutto perfino nella legge quindi questo non è stato facile me ne rendo conto e non è ancora facile perché faccio un esempio anzitutto io credo che bisogna guardarsi intorno e guardarci negli occhi quello che noi abbiamo voluto fare anche con questo volume lo diciamo nella sinossi è una descrizione di scenari ma anche un volume di speranza noi non dobbiamo mai arrenderci a che le cose devono andare come devono andare e che il futuro sarà solo oscuro non ci credo non mi rassegnerò mai anche nel lavoro perché quando quando gli spaziacamini non esistono più c'è stata qualche tragedia sono stati nuovi lavori meno faticosi più meglio retribuiti i maniscalchi non esistono si pensava ad un impoverimento generale questo non significa che non ci siano problemi voglio dire ma io mi fermo voglio dire il mio intendimento il nostro intendimento con questo volume Giuseppe era la speranza ce la possiamo fare le democrazie occidentali ce l'hanno sempre fatta e ce la faremo anche questa volta guardiamo la precarietà vabbè quando si parla di precarietà adesso non abbiamo il tempo bisogna capire di cosa si sta parlando il contratto a tempo indeterminato e la forma di assunzione ancora prevalente di cosa stiamo parlando nulla è per tutta la vita cioè io contesto non io il mondo in cui viviamo mette in discussione l'eternità dell'evento che è il rapporto di lavoro il concetto di eternità è rifiutato dal nostro modo di vivere e perché domandiamoci un contratto a tempo indeterminato un contratto stabile mediamente dopo 6-7 anni ho sbaglio Giuseppe non c'è più perché dopo 6-7 anni succede qualcosa succede attenzione succede qualcosa per volere dell'impresa nei limiti consentiti dalla legge o per decisione del lavoratore o della lavoratrice succede qualcosa si spostano i capitali si spostano i progetti industriali si spostano le persone non dobbiamo aver paura noi abbiamo troppa paura perché i problemi non si possono affrontare con il timore ma con un approccio serio con riforme serie cercando di analizzare cosa ci manca cosa ci manca cosa facciamo un evento una volta cosa ci impedisce di lavorare forse c'era per Giuseppe non ricordo cosa ci impedisce di lavorare perché nei paesi del nord Europa non c'è questo problema quindi non è un problema antropologico qualcuno lo ha risolto non si risolvono mai del tutto i problemi del lavoro allora io dico che ognuno di noi ogni pezzo di società che sia lo Stato il legislatore che sia che siano le organizzazioni sindacali cioè i corpi intermedi che siano gli intellettuali che siano ovviamente le rappresentanze politiche che determinano gli indirizzi politici ognuno ci deve mettere del suo ma se non facciamo un'analisi come dire distaccata in fondo qualche volta bisogna anche imparare dagli altri e non avere paura dei cambiamenti cioè qualcuno poteva pensare che l'aristrocrazia venisse spazzata via dalla rivoluzione francese no però è successo però è successo qualcuno poteva pensare poteva pensare che un giorno i lavoratori avrebbero avuto quella garanzia che si chiama Statuto dei Lavoratori qualcuno poteva pensarlo quando si morivano nelle miniere però ce l'abbiamo fatta ci siamo riusciti no non l'hanno tolto non è vero non è vero va beh questo ci vorrebbe un dibattito a parte no il merito anche a Di Bagno questo voglio dire eppure è successo i lavoratori sono più quali mediamente più qualificati più rispettati oggi e per questo chiedono di più concludo il massimo grado di maturità di un mercato di lavoro lo avremo quando saranno le persone a scegliersi il datore di lavoro e non viceversa questo significa Giuseppe tu parlavi dei giovani quando non si accontenteranno più del primo impiego che capita come è possibile questo a parte la cornice sociale economica legislativa in ragione della loro qualificazione professionale che regala loro una forza regalerà ai giovani una forza come dire è un passo più spedito nell'operare le scelte verso quella serenità quella che noi abbiamo chiamato il piacere il piacere di lavorare sì insomma noi stiamo parlando di lavoro la signora accennava allo statuto dei lavoratori sì ma anche tu dici una cosa molto precisa riguardo il referendum sull'articolo 18 dici non si può tornare indietro non si può tornare a vecchi strumenti io sono io sono in parte d'accordo irreversibile il mondo del lavoro evolve scusami Rossella consentimi allora noi dobbiamo anche chiederci anzitutto lo statuto dei lavoratori una legge di dignità peraltro scritta benissimo quando scrivevano bene le infatti io a scuola l'ho capita subito diciamo così adesso non si capisce niente diciamo devi avere diversi consulenti avvocati per capire che cosa c'è scritto in una legge e però ma se no non puoi lavorare no scusami mi permetto l'unico l'aspetto è entrato in discussione visto che lo statuto dei lavoratori è sostanzialmente per fortuna ancora vigente è quello del reintegro in caso di licenziamento dell'articolo 18 teniamo conto che questa bellissima legge è stata scritta quando non esistevano neppure i computer ci rendiamo conto e poi qualcuno dovrebbe spiegarmi perché il reintegro il famoso articolo 18 è negato alla quasi totalità delle democrazie anche dove governa ho governato la sinistra non mi sento tanto tranquillo non mi sento Grazie. E quindi praticamente facciamo questa ricerca sugli esiti del licenziamento ex articolo 18 presso il Tribunale di Bari. Il risultato finale fu che per la quasi totalità, diciamo per il 90% di questi licenziamenti che facevano poi, alla fine c'era in seconda battuta un accordo per cui venivano liquidati. Presumibilmente prendevano lo stesso numero di mentalità che prendono ora. La norma consente al lavoratore di accettare la rinifera o di iniziare i cambi di un interiore indennizio. Lo prendono tutti gli indennizi. Perché tu puoi lavorare in un'azienda dove comunque altrimenti... No, è corretto. Io penso questo. Adesso esprimo un pensiero volutamente estremizzandolo. Ma sicuramente comprenderete lo spirito della mia osservazione. Allora, il rapporto di lavoro è prima di tutto una relazione sociale, prima ancora che un contratto. Io credo, io penso, che se la regolazione di questo evento della nostra vita, che è un rapporto di lavoro, sia troppo lasciata a giudici ed avvocati, c'è qualcosa che non funziona. Esatto, chiaro. Si potrebbe continuare a dibattere su questo... Certo, è vero. Un altro giro di domande. Io volevo solamente riprendere quello con cui aveva concluso Francesco. Che il lavoratore dovrà un domani, in un futuribile domani, cercare di una insubordinazione. Che crei il suo profilo personale, che crei una capacità di assedire se stesso e le sue volontà. Però noi abbiamo parlato del lavoratore e quindi dell'offerta di lavoro, ma c'è una qualità anche nella domanda di lavoro. Sì, si pone il tema dell'efficientamento dei sistemi produttivi e si pone il tema delle competenze e della qualità della domanda di lavoro. Noi stiamo assistendo negli ultimi due anni, direi, che coincidono anche con una certa narrativa pilotata, se mi fermo qua, mediatica, a una diffusione di dati su un trend occupazionale molto positivo in questo paese. Sembra veramente che siamo un'isola felice rispetto al resto del mondo, dell'Europa in difficoltà. Sembriamo un Lussemburgo più grande, diciamo. Per cui il paese straborda di occupazione, siamo quelli che assumono di più e così via. Però poi in realtà è tutta occupazione di scarsa qualità, pagata poco e male. Il tema del salario minimo, sul quale non entriamo se no ci dividiamo, c'è spaccatura anche all'interno del centro studio. Io vorrei una legge, per dire lui no. Sul tema del salario minimo, io propenderei per una legge che l'ho detto, tu invece no. Però non lo so, fra un po' sta giocando il Napoli. Scusami, la questione è da risolvere. E sicuramente è da risolvere. Non si possono tollerare alcune pache orarie. Poi bisogna trovare lo strumento migliore. No, era soltanto una sponda senza affrontare il tema. Per dire che si pone in modo veramente urgente un tema della qualità del lavoro, che in questo paese forse è quello centrale. È quello che ruota anche attorno al discorso che stavamo facendo prima. Perché la domanda di qualità che non c'è, la domanda di lavoro di qualità che non c'è, poi si traduce nell'ansia di cercare un lavoro sempre migliore da parte dei giovani. E i giovani, o anche quelli meno giovani, cambiano e sono alla continua di ricerca di un'occupazione che li appaghi e non puntano né alla stabilità né ad una retribuzione adeguata. Puntano a dei trend di qualità che fanno fatica a ritrovare nel contesto lavorativo che loro propongono. Che è quello appunto di avere forse anche un discorso legato alla conciliazione, che non ti piace, il compromesso che sembra troppo compromesso, tempi di vita e tempi di lavoro, esatto, perché lo smart working emergenziale ci ha fatto assaporare qualcosa che a molti piace ed è sembra anche giusto, ha anche altri aspetti. La professionalità del contesto nel quale lavori, la possibilità di intravedere in quell'occupazione una crescita, una carriera che se vedi il buio provi a cambiare. E tutto questo, cioè i desiderata dei giovani e dei meno giovani, impattano sui contesti nei quali c'è oggi l'occupazione offerta da parte delle aziende. Che, mi ripeto, è di scarsa qualità perché è stata fatta una scelta 20-30 anni fa e che ad oggi almeno non ci sono segnali di cambiamento, di strutturare il nostro sistema paese verso un'occupazione di scarsa qualità, verso la produzione di prodotti di scarsa qualità, siamo rimasti ancora ad oggi il serbatoio di sub fornitura industriale di un paese come la Germania per cui produciamo prodotti che puntano alla competitività dei prezzi più che alla qualità dei prodotti e questo poi si riverbera anche sulle performance dei contesti lavorativi laddove poi deve essere offerto, proposto il lavoro. Quindi temo che sia questo il fulcro del ragionamento che anche del primo giro. Cioè i giovani cambiano di continuo, non perché sono smaniosi, ma perché quello che trovano fa schifo, probabilmente. Allora, io come rappresentante femminile non posso illudere questa domanda. Qualche giorno fa sulla Gazzetta del Mezzogiorno, sulla vostra cara Gazzetta del Mezzogiorno, è venuta fuori un articolo di Manisa Ingrosso in cui venivano citati i dati di Istat. In Puglia le donne che escono dal mercato del lavoro e che restano inattivo sono tantissime. Naturalmente le questioni quali sono le solite? Un cattivo, politiche sociali inesistenti, un esistente welfare e quindi il lavoro di cura deve essere, in qualche modo qualcuno lo dovrà fare, lo deve fare e lo fanno le donne. Quindi le donne accettano di uscire dal mercato del lavoro, se non ci escono completamente accettano lavoro nero, lavoro precario. tempi, diciamo a volte si parlava e si ricomincia a parlare delle dimissioni in bianco, insomma tutti questi capolavori che ci offre il mercato del lavoro. Allora io ti chiedo, non ci sono, dall'osservatorio regionale quale hai, so, immagino e ho anche seguito le politiche fatte dalla regione Puglia, ma queste sono state sufficienti? Allora, nulla sarà mai sufficiente se noi non riusciremo comunque a colparlo il gap, perché ha ragione il professor Gentile, i dati sono ottimistici anche per la Puglia, anche perché la Puglia come regione del mezzogiorno ancora vive il divario occupazionale. C'è stato la settimana scorsa al Petruzzelli l'incontro dei cavalieri del lavoro, con un messaggio anche di Mattarella, e credo D'Amato, che è cavaliere del lavoro oltre ad essere stato presidente di Confindustria, ha detto se il mezzogiorno non arriva al 60% di livello di occupazione, noi siamo molto al di sotto di questo livello, non ci sarà sviluppo per il Sud. Siamo però su una buona strada perché gli ultimi dati Istat del trimestre 2024 danno in crescita non solo l'occupazione a partire dal 2018, ma anche quello femminile. Poi se i dati sono realistici o meno, sono gonfiati, questo non possiamo dirlo, però è un dato. E' ovvio, ora ci arriviamo, il problema è che sicuramente se partiamo dal dato, donne e giovani sono la platea di lavoratori e lavoratrici ai quali puntiamo anche per le politiche regionali per colmare anche il livello di occupabili, perché la fotografia della popolazione che abbiamo è che l'occupazione cresce anche perché si riduce la popolazione degli occupabili, che sono comunque compresi tra i 15 e i 64 anni. Noi abbiamo, oltre al fattore di natalità, che in parte sicuramente era prevedibile, ma la Puglia perderà entro il 2040 390.000 unità. E saranno sicuramente non gli over 65, anche perché si dice che il sistema sanitario non funziona, però poi voi vi spiegherete com'è possibile, che in Puglia, soprattutto in alcune zone della Puglia, il tasso di invecchiamento è altissimo. Quindi noi abbiamo una platea di over 65 che supereranno i 100 anni e quindi resteranno come popolazione, non potranno essere occupabili e quindi se la popolazione si riduce saranno giovani innanzitutto, che non ci saranno, e non riusciremo tra gli inattivi e i fuoriusciti dal mercato del lavoro a recuperare le donne. Quindi ecco perché oggi non è una questione di genere o di discriminazione, al contrario. Se vogliamo incrementare l'occupazione dobbiamo tener conto di questi due trend. I giovani sono anche quelli che vanno via e quindi noi li stiamo perdendo perché la maggiore migrazione è la fuga dei cervelli e dei giovani per tutte le ragioni che sono state esaminate prima di me. Perché non trovano un contesto favorevole, perché sono naturaliter spinti da questa esigenza di conoscere il mondo in un'epoca globalizzata che oggi dà tante opportunità anche perché sono facilmente immaginabili e intuibili. E quindi da questo punto di vista la Regione Puglia cosa sta facendo? Il problema se l'è posto. Ora, il programma può piacere o non piacere può essere un proclama. Mari a sinistra. Su questo nome di questa misura quadro ci siamo molto interrogati. Dobbiamo tenere in Puglia i giovani che siano talenti o non talenti attrarne degli altri creare una sorta di porta che sia solo unidirezionale cioè farli entrare e non farli andare via. E quindi stiamo immaginando delle misure a sostegno che rendano innanzitutto conoscibile perché a volte il problema è la comunicazione cioè difetto di informazione e della qualità dell'informazione perché spesso comunichiamo ma male e non col linguaggio dei nativi digitali. E quindi spesso il contesto che non funziona o che non è a PIL è perché non è conosciuto. Cioè sicuramente molte cose non vanno ma ci sono tante cose che potrebbero essere messe a valore che i giovani non sanno nemmeno che esistano. Qui c'è la professoressa Manghisi della Rete degli Alberghieri che è una realtà incredibile di conoscenza, di scambio di formazione, di qualità di rete anche, di gemellaggio di scambio d'esperienza che magari non si conosce così come è stata fino a poco tempo fa in Puglia l'offerta degli istituti tecnologici superiori che consentono anche le famose passerelle verso l'università mondi che prima venivano visti in competizione che invece sono perfettamente paralleli e interscambiabili con percorsi reversibili che hanno sempre più chiarito che non è più una scelta di vita quella di seguire un percorso che parte dalla scuola e poi porta alla formazione di qualità perché quando si sbaglia quel percorso si ritiene che quel percorso per deficit di orientamento non era il percorso corrispondente all'attitudine quel percorso può essere cambiato in qualunque momento perché come si dice per ogni porta che si apre c'è un portone che si chiude c'è un portone che si apre bene i percorsi sono assolutamente interscambiabili e quindi questo significa predisporre una strategia che guarda i giovani per mantenervi in Puglia le donne è ovvio che c'è un problema di riqualificazione spesso di reskilling o upskilling e di riconquista della platea femminile quando soprattutto c'è il superamento della disoccupazione di lunga durata che riguarda soprattutto le donne e la fuoriuscita dal mercato del lavoro e sono per lo più over 55 non a caso ho colpito i tre segmenti di un programma che il professor Gentile e anche il professor Enrico conosceranno bene ma anche se è un'agenzia per il lavoro Giuseppe Venier che si chiama GOL che è stata la grande scommessa del PNRR garanzia occupabilità di lavoro multimisura esattamente come garanzia giovani che per mole quantità di finanziamento stiamo parlando di un programma di 4,4 miliardi di euro che si è aggiunto un ulteriore miliardo e 2 per il piano competenze nazionale competenze e transizioni e per il potenziamento dei centri per l'impiego questo programma e siamo a due anni se voi guardate il monitoraggio nazionale vi spaventate perché anche qui però mi sembra che l'idea che siamo in ritardo perderemo i fondi che non siamo stati capaci che l'Italia va a due velocità perché la Lombardia ha già praticamente fatto tutto le regioni del mezzogiorno sono tutte fanalino di coda tenete conto che questa doppia velocità è un problema perché il programma per la prima volta tiene insieme tutte le regioni e se una regione fallisce cadono tutte le altre perché il programma è a regia nazionale e i target e i milestone che riguardano le regioni che sono fanalino di coda condizionano anche la tenuta per quelle più virtuose quindi forse per la prima volta stiamo anche veramente immaginando un sistema di sussidiarietà per la quale o ci teniamo tutti o nessuno si salva perché nessuno si salva da solo in un contesto di repubblica che è una nazione fondata su un forte regionalismo ebbene voglio rasserenare i dati della Puglia sono assolutamente mediani come regione del mezzogiorno siamo una delle prime abbiamo posto in essere tutti i programmi e tra l'altro abbiamo già portato a casa 252.000 profilati con patto di servizio giusto per dare un target perché se no per voi 252.000 non significa niente abbiamo come target al 2025 quando il programma sarà scaduto e dovremo rendicontarlo 260.000 trattati cioè accolti e profilati nei centri per l'impiego siamo a 252.000 siamo nel 2024 quindi da questo punto di vista il target l'abbiamo già raggiunto è ovvio che però questo è un target numerico che significa che 252.000 li abbiamo accolti e profilati poi occorre dopo il patto di servizio vedere se devono essere inseriti nei vari percorsi orientamento specialistico reskilling upskilling e le fragilità che sono importanti non dimenticate che 3 milioni di individui in Italia sono astretti da un lavoro dannato lavoro sommerso lavoro fragile senza tutele ebbene di questa platea noi ne abbiamo già indirizzati nei percorsi di formazione assunti 2.000 dalle agenzie per il lavoro l'orientamento specialistico 27.000 e ce ne sono 18.000 che saranno introdotti nei percorsi il programma GOL guarda un altro dato fondamentale le 3 categorie disoccupati di lunga durata donne over 55 se no nei numeri non si raggiunge il milestone il target quindi se fossero tutti uomini o tutti giovani ci sono ovviamente anche 15-29 non avremmo raggiunto l'obiettivo allora stiamo andando avanti crediamo fortemente nell'importanza e nel perno che le donne rappresentano in Puglia per fare leva nel lavoro e chiariamo un'altra cosa qui la Quercè mi avrebbe dato sicuramente ragione ovviamente non si tratta di reskillare o upskillare quindi portare di nuovo ad un'occupazione di medio basso valore perché le donne hanno dimostrato un grande valore aggiunto lo dico da donna in occupazioni anche di alto rilievo di grande valore anche perché c'è una propensione che portano nel lavoro un portato quel lavoro di cura è una tacit skill che può diventare anche un upskill cioè un grande valore quindi è ovvio che la regione una regione come la Puglia si è posto il problema sta operando in tal senso sta sostenendo la rioccupazione delle donne perché ne fa una leva del proprio sviluppo e quindi speriamo in un prossimo incontro di potervi dare i dati e numeri di questi risultati grazie 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 signora Pellegrini quello il suo intervento ha richiamato ha richiamato alla mia mente quello che sta succedendo insomma in questo nostro in questo nostro paese le riforme le riforme diciamo sono discusse sono fonte di polemica sono fonte di critica da uomo del nord da Veneto l'autonomia differenziata secondo lei cambierà qualcosa in questo contesto nel mercato del lavoro lei è uno di quelli pro contro o neutro o neutro una domandina così ma allora al di là che su e come anche essere conciso perché all'esercito è una mia curiosità sì sì c'è un grande c'è un grande c'è un grande dibattito anche con in questo momento da Veneto con il Friuli e con il Trentino Alto Adige che hanno fra di voi beh fra di noi insomma ma insomma che hanno delle posizioni poi faccio una battutaccia io sono di Venezia e già uno di Venezia degli del Veneto beh insomma io sono di Venezia e quindi insomma ma come e probabilmente non lo so e no ma noi anche di là del del ponte della libertà come insomma per cui no dicevo su questa cosa il Friuli ha una posizione contraria al Trentino Alto Adige leggevo proprio in questi giorni alcuni esponenti del Trentino Alto Adige dice ma no perché non utilizzare insomma a parte che hanno anche autonomie e regimi diversi fra di loro e quant'altro ma c'è la posizione della Tod della Sardegna e così via e se vogliamo per per provare a cimentarmi su una cosa su cui sinceramente non mi sarei come dire volontariamente cimentato una cosa però sicuramente c'è stato qualche anno fa ed è naufragato un tentativo da parte di un ex primo ministro di provare dal punto di vista delle politiche del lavoro e della formazione proprio a fare un passo assolutamente contrario rispetto all'autonomia famoso riforma del referendum sulla Costituzione dove potremmo parlare di gol noi lavoriamo in una quindicina di regioni e pur essendo una misura nazionale è pur vero che poi i dispositivi sono tutti diversi come ogni tanto mi domando perché lavorando un po' in giro per il paese ogni tanto mi chiedo ma Mantova è in Lombardia è in Veneto o è in Emilia Romagna no so che è in Lombardia anche se anche se i mantovani non si sentono Lombardi lo è tutto perché c'era il Gran Ducato insomma però mi domando in quella zona che c'è lì che noi a Venezia siamo la bassa quindi Polesine che va verso Ferrara che uno nasca a distanza di 10 km può capitare con delle politiche e delle tutele e un mercato e delle regole del mercato del lavoro che sono fatte dalla regione Emilia Romagna dalla Lombardia o dal Veneto e no e perché e io mi domandavo poi questa cosa adesso posso dirla anche più facilmente perché quando capitava in qualche dibattito pubblico dove c'era o l'assessore al lavoro della regione Emilia o quello del Veneto eccetera dovevo stare con la con la con la donna Zana stavo attentissimo perché giustamente se gli dici ma perché in Emilia Romagna fanno questa cosa aspetta come in Emilia Romagna allora no questo lo dicevo per dire ogni cosa ci sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi sicuramente oggi si parla no di LEP di livelli essenziali delle prestazioni che valgono per la sanità ma valgono anche per il mercato del lavoro allora il tema e me ne esco è il fatto che poi le persone mi riallaccia a una cosa che diceva Francesco fra l'altro faccio un inciso scusatemi rispetto all'intervento che ha fatto prima Silvia che io sposo 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 largamente vi consiglio di leggere il pezzo che c'è qui dentro della professoressa Giannini perché dà proprio visto che non c'è e visto che dà proprio un focus proprio fra l'altro sulla parte della disparità retributiva da cosa dipende di genere e insomma era solo un inciso ma mi riallaccio a quello che diceva Francesco il fatto della scelta oggi c'è già un e forse ha a che fare anche con con l'autonomia differenziata e con queste cose qui oggi c'è già un adagio tra chi lavora nel nostro settore tra i cosiddetti recruiter chiamiamoli così che quando finisce un colloquio uno si alza e dice le farò sapere tendenzialmente le farò sapere oggi è più facile che lo lo dica il candidato che quindi c'è già questa è un adagio perché poi è una provocazione non dico ma nei fatti siamo ancora molto distanti evidentemente dallo scenario che illustrava francesco però l'idea che noi lavoriamo e questo secondo me ha incidenza anche sulla qualità della domanda perché costringe l'impresa a rimettersi in discussione perché se uno si alza gli sto offrendo un lavoro e mi dice le farò sapere è probabilmente io mi devo mettere in discussione fra l'altro se qualche volta uno può dire le farò sapere chissà che non si faccia più vedere perché non l'avrei mai scelto ma non è necessariamente così allora credo che però perché uno possa scegliere alzarsi quali sono le caratteristiche che fanno sì che questo possa esercitare questo potere di scelta perché lo diceva nel primo intervento Silvia se noi non mettiamo a disposizione noi e vuol dire istituzioni ma anche imprese dei servizi di welfare e di equilibrio mi piace il termine equilibrio tra vita e lavoro è evidente che siamo scoperti e probabilmente probabilmente noi abbiamo un'azienda che è femminile per cui è un tema con cui mi confronto da ormai da 25 anni probabilmente la possibilità di scelta tra lavoro di cura genitorialità e carriera professionale evidentemente rimane una non libertà di scelta una cosa con cui uno deve poi confrontarsi ma così se io non ho le informazioni se magari non ho in mente quali sono le opportunità nell'area turistico alberghiera dove non si fa lo smart working ma dove però si lavora il sabato la domenica si lavora le feste comandate quindi si lavora quando gli altri si divertono però dà anche tantissime altre soddisfazioni però devo conoscere devo potermi sperimentare così se non ho in mente cosa vuol dire lavorare in una fabbrica che penso ancora magari a tempi moderni e poi magari scopro che lì sono con i camici e cose più pulito e magari della stanza dell'albergo a quattro stelle dove si va per cui oggi per facilitare questa libertà di scelta noi dobbiamo sicuramente rafforzare la qualificazione che una persona deve avere ma che deve farsi e riprendo il tema dell'orientamento in funzione delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni e qua l'orientamento va fatto va fatto la possibilità che le persone anche magari facciano delle esperienze di lavoro regolare quando ancora stanno studiando protetti assicurati insomma vogliamo parlare io PCTO è una brutta è una parolaccia è una parolaccia però però ad esempio parliamo parliamo del duale parliamo dell'apprendimento cioè parliamo di forme dove insomma che si fa molto nel settore turista insomma noi stessi lo usiamo vediamo che ci sia la possibilità anche di conoscere le regole del mercato del lavoro noi abbiamo una pubblicazione si chiama rispettare le regole per farsi rispettare perché naturalmente è vero che la legge non risolve tutto però è anche vero che dobbiamo alzare la qualità della contrattazione e della regolarità dei rapporti e se probabilmente dalla parte dell'offerta di lavoro c'è una possibilità di alzare la qualità perché scelgo e perché quindi come dire posso anche rifiutarmi come Bartleby e dire no preferirei di no probabilmente la domanda e questo sta già succedendo anche nel pubblico dovrà riadeguarsi e da un circolo vizioso entriamo in un circolo virtuoso che forse è quello è quella speranza a cui prima Francesco chiamava Francesco qualche minuto le conclusioni abbiamo fatto una bellissima discussione direi alta discussione quindi si può dire che anche con questi contributi la scommessa del lavoro si può vincere? questo Rossetto lo dirò nel libro nel prossimo libro intanto giochiamola non lo so ma insomma va fatta la scommessa del lavoro della qualità del lavoro le persone non vogliono più un lavoro vogliono un buon lavoro vogliono un lavoro di qualità che sia riconosciuto non soltanto guarda Rossello lavorare è una scelta che coinvolge l'individuo ma ha uno spessore di carattere etico e sociale perché non siamo soli a questo mondo le nostre scelte coinvolgono le nostre famiglie coinvolgono gli altri quindi è una cosa è una scommessa complessa sicuramente come dire il contesto ci deve mettere nelle condizioni di fare le giuste scelte questo è un nostro limite che riguarda l'orientamento che riguarda la formazione che riguarda i servizi pubblici e privati per l'impiego i privati lavorano meglio naturalmente diciamo i centri per l'impiego c'è un percorso migliorativo sicuramente che ci metta che i livelli salariali non siano quelli che abbiamo perché sennò le persone se ne vanno e io dico un'altra cosa Silvia guarda che i conti i conti se li sta facendo anche la Lombardia che non è più attrattiva come era una volta e queste persone vanno all'estero o meglio le persone vanno dove il loro sogno si può realizzare ed è giusto che sia così allora noi dobbiamo superare la caratteristica del nostro mercato di lavoro il job block mi tengo un lavoro che odio perché suppongo di non avere alternative ma è vero siamo sicuri che non siano io dico sempre che nella vita un'alternativa c'è sempre primo Levi come diciamo nel libro che dice che dice a parte momenti singoli che il destino può regalarti amare il tuo lavoro è la cosa più bella è l'approssimazione della felicità sulla terra e io dico sempre non provarci neanche a fare un lavoro bello una cosa che ci piace fare di qualità che ci soddisfi in termini di gratificazione non è facile non è facile io dico che non provarci neanche non è un segno di realismo ma solo di resa e noi non ci dobbiamo arrendere i nostri giovani non si devono arrendere perché da qualche parte e a determinate condizioni e qui rientra anche la qualità della classe manageriale delle imprese a determinate condizioni e ovviamente nel rispetto dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici perché non possiamo ammettere discriminazioni nessun tipo di apartheid detto questo a determinate condizioni la scommessa io penso che i nostri giovani la devono la devono fare nel prossimo libro vediamo come è andato Roberto Rotundo credo di averlo citato che ha scritto un ottimo un ottimo intervento Marco Panara non so se è andato via ha scritto un altro intervento molto bello Chiara Nardinocchi era prevista mi ha chiamato non è andato al matrimonio di cugino di Maurizio ma mi ha detto Francesco era veramente molto dispiaciuta si scusa con il pubblico perché lei che è gruppo G di Repubblica è stata trasferita al settore esteri e scrivere no è di questi tempi il settore esteri piuttosto impegnativo diciamo così e il suo nuovo capo redattore ha detto sabato e domenica tu devi stare qui non puoi andare a conversare devi stare lei era molto molto mortificata perché voi dovevi sapere che chi viene al festival ci vuole tornare è vero Giuseppe allora grazie ai nostri ospiti grazie a voi spero che vi siate divertiti divertiti con un tema così corposo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti